... Premio Betplug, cavalli for fun, hippie carazionale, concorso 2595, 1600 metri, Trilli Girl Play, Santa Mollo, Tentazione Cara, Marcello Lettieri, Tuono di Grana, Carmelo Recupero, Tristan, Dino, Rosario, Tommaso De Rosa, Texas Rock, Marcello De Muro, Tijuana Bei, Luca Lovera, Turgon, Massimiliano Castaldo, Seconda Pila, Tiffany Tri, Davide Nucci, Tricino, Marcos Borgon, Zigan, Andrea Cuczinati, Telma Chiu, Cesare Paternò, Tamoroc, Tolento Besana, Taino Zen, Cosimo Cangelosi, Itus, Michela Vacca. Macchina sulla piegata delle scuderie, 200 metri al punto di partenza. Amenta velocità la macchina, non sono rete, tentazione cara, Tuono di Grana. Trilli Girl Play, vantaggio lungo la corda. L'errore di Tuono di Grana, Trilli Girl Play al comando, all'esterno scatta Turgon. Sbagliato, intanto è in piegata, Turgon passa al comando, il lancio in tre. Numero 2, tentazione car, squalificato. La sua linea per tentazione car, migliora Tijuana Bei, uscita dalla piegata con Turgon in vantaggio, il suo esterno Trilli Girl Play che ha anticipato Tijuana Bei che gli si pone in scia. 29,5 il quarto iniziale, 15,9 gli ultimi 200. Il vantaggio Trilli Girl Play, in seconda all'esterno Tijuana Bei, in terzo lungo la corda Turgon, poi in quale il numero 8 Tiffany 3, 44,6, 615, 1 gli ultimi due. All'avanguardia Trilli Girl Play, all'esterno sempre Tijuana Bei, Trilli Girl Play avanti a Tijuana Bei, così a metà corsa, 1,0, 1,1, 16,5 gli ultimi 200. Numero 3, tuono di grana, squalificato. Numero 4, Tristan Dinò, squalificato. Si arriva così a completare il giro in 16,5, 15,4 gli ultimi due. In vantaggio Trilli Girl Play, al suo esterno preme sempre Tijuana Bei, terzo lungo la corda Turgon. Dal gruppo viene intanto in avanti Zigan, quantomeno ci prova. Gli ultimi due cento in 14,9, 1,31, 4 per i 1,2. Ha sbagliato Zigan, migliora... Numero 10, Zigan è squalificato. ...indirittura Trilli Girl Play sotto l'attacco vero di Tijuana Bei. Numero 5, Texas Rock, squalificato. Gli ultimi due Tijuana Bei che sta passando, si vendica di Trilli Girl Play. E allora Tijuana Bei avanti a Trilli Girl Play e per la terza probabile Titus avanti a Turgon. I due molto vicini in moto 14,1 gli ultimi due, 29,5. L'ultimo quarto 2,009. Il tempo totale media al chilometro 1,15,6. Per Luca Lovera, proprietario e guidatore di Tijuana Bei, tutto se vogliamo facile. Sarà più difficile questa sera il tifo per il suo Torino, opposto alla sfida con i Rosso Neri. Tempo totale 2,009, media al chilometro 1,15,6 per il successo di Tijuana Bei. Tijuana Bei, Trilli Girl Play, 1 a 1. Speriamo non sia così. Il risultato di calcio.